Una panoramica sulla storia del volo in idrovolante e sulle attività svolte negli ultimi 20 anni dall'aviazione marittima italiana. Questo è il tema che ha caratterizzato l'edizione 2024 di Idrosummit, il convegno internazionale svolto a Gallipoli nella mattinata di sabato, il quale ha visto la partecipazione di autorità civili e militari del comandante del 61esimo stormo dell'Aeronautica Militare di Galatina, di docenti, esperti e appassionati del settore che nella splendida cornice dell'Eco Resort e le Sirene si sono ritrovati come ogni anno. Siamo 20 anni impegnati sul volo idro, su questa disciplina importante, in tutte le sue formule. Siamo partiti come scuola di volo nel 2004 con la prima scuola di volo in mare aperto di idrovolanti. Siamo arrivati a fare un progetto su WON per l'Italia, la Grecia, installando delle idrobasi e mini termine per far volare degli idrovolanti anche come aviazione generale e compagnia aerea. Tante le novità nel corso del dibattito, tra cui la presentazione della nuova compagnia aerea One Aviation, basata alla Spezia che utilizzerà un idrovolante per collegamenti nell'area del nord-ovest d'Italia e il progetto per attivare collegamenti avioturistici con idrovolanti in collaborazione con aeroporti di Puglia. Inoltre, lo sviluppo di SILA 450, un nuovo idrovolante utile per la formazione di nuovi appassionati. Un veicolo alluminio all'alta e standard, provato da anni, che è ideale e adeguato per la scuola ed estramento di volo. L'Aviazione Marittima è il leader internazionale nel campo di idrovolanti e il volo anfibio.